La scuola Mascarucci di Soria e il centro d'aggregazione giovanile Totem di Villa San Martino sono stati ceduti all'asta fruttando 2 milioni e mezzo di euro nelle casse comunali che saranno utilizzati per manutenzioni straordinarie di strade e quartieri. Dei dieci immobili messi ieri all'asta dal comune vanno dunque a buon fine due alienazioni aggiudicate a due imprese idili e immobiliari della città. La scuola Mascarucci è stata ceduta per 2 milioni e 200 mila euro. Si partiva da base d'asta di 1 milione e 9. Non sarà più una scuola ma avrà una destinazione residenziale o ad uso terziario e di servizi. Gli alunni già da tempo hanno traslocato a Pesoro Studi con la prospettiva di passare poi negli spazi di quella che diventerà la nuova Dante Alighieri. Il centro totem di Villa San Martino è stato invece alienato per 313 mila euro partendo da una base d'asta di 268 mila. Il comune si impegnerà a garantire analoghi spazi d'aggregazione giovanile a Villa San Martino riqualificando il centro sociale e l'asilo di Via Leoncavallo. Non ci sono state offerte per gli altri lotti, aste dunque deserte per due immobili rilevanti come il complesso sportivo di Villa Marina che partiva da base d'asta di 850 mila euro mantenendo il vincolo di destinazione ad uso sportivo e servizi di ristorazione. Idem per l'ex carcere minorile di Via Bertozzini che partiva da base d'asta di 770 mila euro. Idem per l'ex carcere minorile di Via Leoncavallo. Idem per l'ex carcere minorile di Via Leoncavallo.